E allora benvenuti benvenuti amici del canale 196 alla puntata di ogni venerdì come al solito umile prolusione del NBA 196 fra una mezz'oretta arrivano Paolo Caselli e l'amico Alessio Provinziano loro specializzati nel grande basket che conta noi facciamo da umili a fristrada con la rivisitazione di tutto ciò che è stato nel weekend del basket toscano dalla serie A1 femminile al campionato di promozione girone D della pallacanestro Elba ma tutto e lo diciamo a un certo punto troveremo a metà della trasmissione Paolo Romanelli coach di una meravigliosa foto amatore Florez Firenze che torna da Lucca sabato scorso con una vittoria decisivissima siamo pronti per giocarci il match ball salvezza ospitiamo domani pomeriggio 18.45 alla palla 2 via la diretta del canale 196 con il sottoscritto al microfono Erichy Pitonna le telecamere da San Marcellino alle ore 18.35 tutte già pronte apparecchiato ringrazio Paolo Ricci per la solente preparazione di tutto quello che serve mi auguro che San Marcellino presenti uno strabiliante colpo d'occhio perché tutta la famiglia del basket fiorentino e non solo deve essere a San Marcellino per spingere la Florence al 2 a 0 che vorrebbe dire in un man che non si dica dopo una stagione assolutamente ipertravagliata la salvezza in due scoppi contro Lucca abbiamo vinto a Lucca 60-54 adesso rimane da fare il secondo tempo quello casalingo appuntamento davvero imperdibile perché nessuno di noi vuole rischiare di tornare per la terza volta o la seconda la quarta volta sarebbe nel play out dopo quello della regular season di nuovo a Lucca per cui vogliamo vincere domani mi scuserà il team del squadra lucchese delle mura spring Lucca se io mi auguro che vinca Firenze il tavolo è apparecchiato a pro fotomotore Flores dove noi siamo con partecipi c'è il Giglio di Firenze Viola Supersport e rimetteremo la scritta anche sul parchè di San Marcellino dove purtroppo qualche scelerato ce lo ha levato è rimasto solo il Giglio ma il Giglio senza quello che rappresenta ovvero sia la testata giornalistica di Firenze Viola Supersport editrice di questo canale piazzatosi al venticinquesimo posto dei canali nazionali e regionali in seconda fascia televisione con appena tre anni e mezzo di anzianità sulle spalle solo produzione sportiva venticinquesimo posto finale nella classifica di Firenze Viola Supersport canale sportivo 196 siamo quarantottesi con canale informativo 194 anch'esso promosso dal Mise l'organismo nazionale che sovrintende il lascia passare televisivo di tutte le televisioni nazionali allora cominciamo il nostro ripercorrere i risultati che si sono addivenuti dall'ultimo weekend ad oggi cominciando dal turno in A1 femminile che si è giocato il 30 di marzo e allora andiamo a vedere come primo titolo purtroppo la sconfitta di Lucca in casa contro Schio ma c'era da aspettarsela è finito purtroppo tanto a poco Schio batte Lucca 82 a 38 si giocava Lucca 10-30 15-23 l'affondamento 4-13 nel terzo quarto 9-16 nel quarto finale tanto Schio poco Lucca e andiamo a vedere se il nostro sito di riferimento ci confeziona le marcatrici allora vediamo andiamo ad aprirle tutte allora la Natali di Lucca è comunque la miglior marcatrice 21 del pero Schio 17 come la Laksa di Schio 17 la Gay sempre di Schio ne mette 10 poi in single cifra la Verona di Schio 9 la Andrè di Schio con 6 la Gruda di Schio con 6 Kasmarczyk di Lucca 6 la Kiss di Schio con 6 Krippa Schio 5 la Azzi di Lucca 4 Valentino Lucca 4 Gilli Lucca 3 Sottana di Schio 2 punti per cui purtroppo tanto a poco contro la iper capolista Broni che viene battuta in casa da Venezia 53-72 San Martino che batte Empoli che continua a giocare un buon basket ma purtroppo dopo l'ultimo successo che aveva in qualche maniera ha provato a rilanciare le sorti azzurre di Empoli non arrivano altre conferme San Martino batte Empoli 71-57 7-10 altra buona partenza di Empoli poi 22-16 che ribalta tutto 29-21 San Martino scappa nel terzo quarto e le padrone di casa si aggiudicano anche il quarto quarto facendo tombola 13-10 per il totale di 71-57 vado ad aprire anche qui le statistiche tabellini della partita Mitchell di San Martino 21-21 Guarise San Martino 20 la Baldelli di Empoli 14 Bocchetti Empoli 12 la Kelly del team di casa di San Martino 11 la Rensbiscaia Empoli 11 Pastrello di San Martino 10 Williams di Empoli la statunitense 10 poi i single con Filippi per San Martino 7 Manetti Empoli 4 la Narvicute di Empoli 4 la Arado di San Martino con 2 la Stoiccova di Empoli chiude con 2 punti andiamo a vedere ovviamente completiamo il tabellino dell'ultimo turno di A1 Ragusa batte Sassari 80-68 Campobasso che cede in caso a Costa Masnaga 73-84 allora qui possiamo andare a vedere quella che è l'ultima classifica Schio che vince e sale a 42 Bologna Fortitudo 36 Lucca rimane in terza posizione 34 precede Venezia di 2 32 Ragusa 30 Campobasso 26 San Martino 24 Costa Masnaga 22 San Giovanni 20 Sassari 16 Faenza 14 Moncalieri e Broni ne hanno 10 Empoli che chiude la gradatoria con 6 punti dicevamo delle ultime c'è una pezza una vinta poi tre pezze di seguito con quella vinta state salite a 6 avevamo raccorciato purtroppo non siamo non sono le ragazze empolese riuscite più a portare punti importanti a casa per dovere di cavalleria nella basket femminile eravamo e proseguiamo la 2 femminile il girone sud e poi passeremo a quello che hanno scritto i maschietti allora il turno la giornata numero 22 si è giocato il 27 e il 26 di marzo allora Civitanova Marche battuta in casa da Vigarano 72-76 Spezia che ha battuto Matelica 54-49 Firenze Palagiaccio che batte patti 82-64 bene alle Fiorentine allora leggiamo la score 20-13 22-17 19-15 21-19 quattro tempi comandati dalle ragazze del mio amico Stefano Corsini che ringrazio e abbraccio se poi ricomincia a fare lo scrittore ti faccio avere la testera ma mi devi mandare tutta la stagione del Palagiaccio partita per partita commento per commento ti metto a refetto faccio un blocco di Palagiaccio Firenze su Firenze e Viola Super Sport e poi ti porto al proscenio dell'ordine per farti avere il testerino ci aveva abituato bene negli anni scorsa poi capisco che allenare la 2 e non i giovanili della Sancat sia un'altra cosa però se ci ragguagliate e ci mandate i tabellini e due righe di commento sarebbe sempre ben accetto le statistiche del match Marta Rossini di rompente MVP 27 l'amiccio di Patti è la seconda migliore marcatrice 19 Poggio per Firenze 16 Verona Patti 16 Botteghi Patti 15 troviamo la Reani di Firenze 11 la Deca Sun 10 poi single con dell'olio Firenze 8 Giuliano Patti 8 Mikovic Patti 6 Speziali Palagiaccio Firenze 5 Boccolato per Firenze 3 Silvia Rossini Firenze non ci è abituato due punti solamente questi sono i tabellini del match con poi Savona che batte Selargius 78-63 Nico Basket di Montecatini che perde in casa contro Cagliari 54-67 15-12 primo quarto per la Nico poi 12-17 si riequilibra tutto nel terzo quarto scappa via Cagliari che si aggiudica il parziale 20-13 e chiude a suo favore portando a casa i punti 18-14 andiamo a leggere ovviamente squadra toscana e noi seguiamo le squadre toscane andiamo a vedere qui purtroppo non sono riportati i punti del tabellino e purtroppo ci scusiamo e dobbiamo andare avanti con Valdarno che batte Battipaglia tanto a poco 61-40 con 17-9 partita ghiacciata 12-14 Battipaglia prova a rientrare ma viene stesa da un terzo quarto e firmato Valdarno 25-9 poi quarto quarto da scuola alimentare mini basket e Battipaglia chiude gli ultimi 10 minuti con un minimale 8-7 basket che non si vede mai vince Valdarno 61-40 proviamo a vedere qui se sono andati ad effetto i tabellini niente da fare prova ad aprire ma non c'è nulla perché ci sono solamente i punteggi del primo quarto e niente più ovviamente non sono plausibili mi scuso e andiamo ai tirami innanzi con Capri che perde di due punti battuta sull'isola da Umbertide 70-68 andiamo a vedere la classifica che ne vince dove troviamo sicuramente cose belle perché comanda Valdarno 32 Spezia e Palagiaccio Firenze seconde a 30 punti a 28 Umbertide a 24 Vigarano 20 Cagliari e Matelica con Battipaglia un trista a 20 punti zona mediana del campionato se Largius e Savona ne hanno 18 Patti 16 Capri 16 10 Nico Basket 8 Civita Nova Marche allora per Valdarno le ultime 5 tutte vittorie Spezia 4 vinte una pezza stessa cosa non nella stessa sequenzialità per Firenze 2 vinte una pezza 2 vinte che vuol dire il conseguimento e il mantenimento per l'ora anche del secondo posto per cui tante belle cose in cima alla classifica della serie A2 da qua torniamo invece nel campionato nazionale siamo alla ehm ad andare a vedere i risultati della basket femminile della serie B allora vediamo se siamo già qua serie B no dobbiamo andare campionati regionali qui c'è il solito prima parte una paginata e poi ne parte un'altra allora andiamo qua giù la B femminile ovviamente torneremo pull retrocessione girone unico dove la B femminile ehm pull retrocessione girone unico voglio dire campionato B femminile nulla devo andare a prenderlo da qua perché bisogna che vi ricordi allora siamo arrivati a parlare del colpaccio in terra lucchese il secondo consecutivo il primo era stato durante la regular season all'avvento di Paolo Romanelli le ragazze della Florence fanno il secondo acuto quando serve nell'ora giusta nel luogo giusto al momento giusto seconda vittoria a Lucca del fotomatore Florence 60 a 54 con Lemura che 13-22 primo quarto Florence di dominio poi si spenge tutto la luce Lucca stampa 20-5 e rientra 33-27 poi 46-45 un punto in vantaggio Firenze che tiene la testa ma soffre il quarto quarto si riaccende la luce cala la difesa Fiorentina sull'escura di Lucca che non trova più la via del canestro le Fiorentine fanno loro il quarto quarto 15-8 e vincono 60-54 vuol dire 1-0 vi dico anche il tabellino della partita per Lemura Lucca 2-2 Borriero 8-8 Cerri 8 Rugani non è entrata Morettini Paracucchi 13 Rapè 2 Masini 7 Leovino 12 di Michelotti l'altra Cerri non è entrata Buognini e la terza la prima Cerri G8 poi abbiamo la Cerri E non è entrata la Cerri C due punti allenatore Nicolosi 8 su 20 ai liberi Male Lucca ne approfitta il fotomatore che firma due di Stefanini Becucci Navarria Ciantelli che va in panca ovviamente si mette a refetto ma non entra Portafortuna tanta ci voleva Mascio 14 Monti 15 Banulesco non è entrata Casiglia da Fiera Paladina 9 Santulli ancora una volta MVP ne firma 20 Male le due senatrici Consumi e Colantoni senza punti allenatore Romanelli liberi Florence da perfezionare i numeri 16 su 28 ci sono purtroppo 12 errori e allora il miracolo si riavvera al Paratagliate la miglior Florence della stagione sbanca il Parasport lucchese cercando di costruirsi l'1-2 vincente in assoluto estremis spinta da un super trio co a Ciormanelli che sentiremo tra qualche istante proponeva la seconda puntata come accaduto un paio di settimane fa Santulli MVP ne firma 20 Mascio 14 Monti 15 la fida Casiglia con 9 con i due della capitana Stefanini la Florence sorprendeva ancora le lucchesi sognando adesso di fare doppio colpo decisivo in casa domani pomeriggio 18.45 palla 2 la diretta di questo canale il 196 specializzato in ottimo sport dal vivo cominceremo le riprese alle 18.35 con il fido Erichy Pitoni in cabina di regia la partenza è da Sprintosa Gigliato a 13.22 nel secondo quarto Luca ribaltava a 25 al pistop lungo vantaggio delle Fiorentine 33 a 27 nel quarto quarto Luca ancora avanti 46 45 con un parziale di 13 18 ma nel finale le Fiorentine come è già successo un paio di settimane fa salivano uso il termine sulle mura stampando un 15 8 ribartandosela a sua volta difendendo con arti frecce olio bollente dalle mura il tentativo lucchese minimo perché con un 15 8 si stampava la vittoria 60 54 adesso dobbiamo completare il tutto cercando di aggiudicarsi in due sole manche il play out battendo Luca anche a Firenze saremo lì apposta dall'altra parte nel play out Pontedera può già dire di aver superato lo scoglio hanno battuto la Gea Basca e il grossetto 71 a 31 andranno a giocare gara 2 ma finisce di nuovo tanto a poco per cui la Florence si deve assolutamente salvare non voglio pensare a nient'altro il play out decisivo per stabilire chi retrocede col grossetto deve essere inequivocabilmente Luca Pontedera con le lucchesi che credo partirebbero con un leggero favore del pronostico allora per andare a capire a sentire ciò che è stato fatto di meraviglioso a Luca la telefonata che abbiamo già fatto intercorsa per motivi di lavoro l'abbiamo anticipata con il coach Paolo Romanelli che abbiamo al telefono via dalla regia la registrazione con coach Paolo Romanelli super coach Paolo Romanelli allora è tempo di arrivare al campionato di Serie B che sta per vivere un sabato davvero intenso 18.45 domani il numero 2 del play out salvezza la Florence foto amatore Florence di Paolo Romanelli che abbiamo al telefono ha già fatto il primo passo auspicabile come parlavamo venerdì scorso il tavolo è imbandito solo delle maglie del giubbotto del foto amatore Florence Paolo ben ritrovato e grazie di essere con noi buongiorno grazie a voi allora ci siamo portati fortuna vicendevolmente da quando sei arrivato la Florence ha messo nel mirino positivamente per due volte l'andata e lo scippo dello scalpo al palatagliate di Lucca la seconda vittoria è quella che interessa più di tutte la prima era stato lo squillo del rilancio di un mesetto fa ma sabato scorso mi torni vincente 60-54 conduci 1-0 come il Pontedera conduce sul Gea Basket Grosseto dall'altra parte adesso avete il match ball da non fallire non voglio pensare di dover tornare a Lucca un'altra volta voglio dirimere tutto in diretta televisiva domani 18.35 si inizia il collegamento intanto grazie per quello che hai saputo fare grazie alle ragazze allora in primis te ripercorriamo cosa siete riusciti a fare di bello nell'ultimo quarto soprattutto a Lucca ma a Lucca onestamente abbiamo già sopra tre quarti su quattro siamo sempre stati abbastanza in controllo solamente che nel secondo quarto a un certo punto si è spenta la luce e abbiamo preso una serie di cametti veramente improponibili insomma scarsa difesa sono andata proprio in pampola prendendo 24 a 5 e rischiando di buttare via tutto poi per fortuna abbiamo ripreso nell'intervallo un attimino il filo del discorso e stavamo riusciti a vincere la partita con un grande quarto finale 15 a 8 hai recuperato il punticino del 46 a 45 e hai vinto 60 a 54 ti sei voluto far portare fortuna hai riportato in panchina la Ciantelli che ha voluto essere messa a refetto ovviamente non è utilizzabile scanso equivoci dell'ultima dell'ultima ora perché quel guaio la ragazza la rivediamo il prossimo anno in toto perché è inutile rischiarla ma la ragazza ha voluto essere di nuovo con noi è andata in panca ha portato fortuna hanno tutte festeggiato pertanto 2 di Stefanini Becucci Navarria Ciantelli non è entrata 14 di una positiva mascio 15 per una stratosferica Monti Banulesco non è entrata 9 per la Casiglia abbiamo un MVP un'altra volta la Santullina la Santulli con 20 la migliore di tutte Consumi e Calo Antoni senza punti questo è un fatto che domani bisogna gestire in un'altra maniera 16 su 28 ai liberi laddove hai tenuto la Parucchi a 13 la Rapè solamente a 2 la Michelotti la migliore con 12 insieme alla Parucchi poco altro spazio per le mura a Spring Look conduce 1 a 0 cosa hai detto alle ragazze per preparare a meglio e non fallire il tapin di domani pomeriggio no ma le ragazze sono allenate bene ieri quello che ho detto è che solamente il primo tempo e ora dobbiamo vincere anche il secondo perché quella alla canestra è un gioco strano e che se prendi una giornata sbagliata puoi rimettere tutto sul tavolo per cui facciamo un appello fate girare intorno al vostro gruppo torniamo a fare diretta siamo con le telecamere lì con voi vorremmo buttarci in campo e ti abbraccerò alla fine tutto quanto andremo a cena festeggeremo perché sarebbe un grandissimo risultato dopo un'annata completamente da dimenticare ritargata Covid con tantissimi infortuni senza la chantellina purtroppo dalla prima giornata tanti tanti problemi piano piano prima coach Cibrienza e poi te sapientemente avete preso per mano le ragazze le avete guidate avete fatto da due papà uno più giovane il secondo con qualche annetto un più te le ragazze vi hanno seguiti all'unisono siamo davanti a un match ball imperdibile sappiamo riuscire tutti i vincenti e poi ci abbracciamo va bene? d'accordo ok vi aspetto sabato per cui ci vediamo domani pomeriggio e agli amici del basket 18.35 inizia il collegamento la giornata numeri presentazione formazione e quant'altro e poi via la palla a due 18.45 forza Fatamatore Flores Firenze bene grazie Paolo un attimo di pazienza e poi torniamo e proseguiamo la nostra trasmissione e allora grazie coach uno di noi ma Ronnie Brienza vive sempre palpita nei nostri cuori coach Brienza sempre uno di noi allora andiamo a vedere i campionati maschili e siamo a anzi no 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 anzi 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 campionato maschile mi permetterete c'è ancora da dirimere una serie a due allora intanto andiamo a vederlo lì serie a due allora andiamo a vedere cosa ci ha combinato la buon Pistoia allora Pistoia che purtroppo come avevamo anticipato lunedì in sede di commento con Paolo Caselli andava e saliva in terra di Lombardia a Treviglio sono tanti amici purtroppo Treviglio ci batte Pistoia 79 a 73 Pistoia partiva Benino vinceva il primo quarto 21 a 19 poi subiva la remontata di Treviglio 26 a 13 Pistoia ripartiva e pareva in grado di controllare e portare a casa i due punti gli arancioni si aggiudicavano la terza frazione 25 a 17 ma cedevano di tre nel rush finale 17 a 14 Treviglio che aveva la meglio 79 a 63 allora andiamo a vedere il tabellino di questa partita allora se non erro viene reintegrato Whittle che era stato allontanato per provvedimenti disciplinari nella prima parte di campionato poi viene riportato a casa arancione e firma il miglior tabellino con 23 per Pistoia Treviglio mette Langston l'americano 22 Pistoia risponde con Utomi l'americano 20 mette 13 a tabellino di Risma poi per Treviglio Sacchetti 13 Corbett l'americano 12 Reati 10 e Rodriguez 8 poi ritroviamo il Pistoiese della Rossa con 6 nuovamente Treviglio con Bogliardi che ne firma 5 Miaschi a sua volta ne mette 5 mette 5 punti anche Staccaggi per Pistoia Dalmeida ne firma 4 per Treviglio Alinei per Pistoia Tre Magro Pistoia Tre finisce 79 a 73 fa anche in parte la rima con la situazione della giornata allora l'ultima giornata allora abbiamo da darvi delle cupo di giornata 21 giocate il 31 di marzo Orzinuove ha battuto Capodorlando Orlandina 81 76 Cantù ha rimandato battuto Monferrato 91 77 poi Scafate è andato a vincere a Roma sul terreno dell'Eurobasket 109 a 82 nell'ultimo turno giornata 24 a punto Assigieco Piacenza Mantua 81 66 Bacchi di Piacenza Cantù stratosferica dopo tempo supplementare 128 a 136 con Biella che batte Orzinuovi 82 70 Forlì batte Eurobasket Roma 101 91 Sansevero che rimanda battuta Verona 88 77 con Treviglio a punto che mi batte Pistoia 79 73 Udine 82 Urania Milano 65 Capodorlando Monferrato 87 66 Chiusi Ravenna 75 85 Ravenna che fa il colpo in trasferta Fabriano Latina 79 87 Ferrara che batte la palla canestro Nardò 83 62 Baschettorino batte Trapani 79 a 63 Andiamo a vedere le classifiche Allora Per quello che riguarda il gruppo rosso ci interessa relativamente Comanda Scafati 38 Ravenna 34 Subiudici una partita di Verona che è posizionata in uno strano 33 Per quello che riguarda invece il gruppo verde questo ci interessa e come Udine che vince e sale a 40 Cantù vince sale a 38 Pistoia Ruzzolicchia in terza posizione perde e rimane a quota 36 nelle ultime 5 3 vinte purtroppo 2 perse Treviglio che batte Pistoia risale a 30 Baschettorino 28 Monferrato 26 Assicerco Piacenza 24 Trapani 22 Mantua 20 Uriana Milano 18 Biella 16 Bacari Piacenza 16 Capodorlando 14 Orzinuovi 4 punti questa è la situazione della 2 maschile con poi la serie B nazionale girone di qualificazione il girone A dove si è giocato la nona di ritorno allora Corneliano San Bernardo Borgo Manero 105 101 Pavia Cecina 76 69 Piombino Paffoni Omegna 63 62 Grosse Empoli Lepatria Samminiano nel derby 62 80 Samminiato esagera Murelli Group Livorno Oleggio Basket 73 72 San Giorgio su Legnano Battuta in casa da una buona All Food Enich Firenze 66 68 di 2 il successo Fiorentino in trasferta Electronics Legnano Colsanus Varese 93 59 Unicusano Livorno Elacan Vigevano 67 64 la classifica che ne consegue Vigevano e Samminiato ne hanno 38 Omegna 36 Electronics Legnano 30 Corneliano San Bernardo e Pavia 28 Piombino Solbat e Murelli Group Livorno 24 Colsanus Varese Unicusano Livorno e All Food Enici Firenze 22 Empoli 20 Oleggio 16 Cecina e San Giorgio sul Legnano 14 Borgo Manero hanno 6 punti dalla B Maschile andiamo alla eh canzionati regionali andiamo e torniamo in terra di Toscano tramite seguendo le dritte del comitato regionale basket Toscana che ringrazio allora andiamo alla serie C God come solito il nostro primo appuntamento si è giocata la giornata 12 del girone di ritorno questi i risultati Valdarno Scuola Basche Tarezzo 83 85 ABC Castelferentino Gemma Montecatini Terme Basche 67 66 squilli di tromba Castelferentino l'ABC batta una delle capoliste come si dice ponte di palloni e magliette sventolanti bianco blu e giallo blu in casa ABC Castelferentino bravi ragazzi Valdisieve Agliana 81 75 Cantini Lorano Olimpia Legnaia Toscana Fudon Bosco Livorno 86 84 successo di due punti dei fiorentini bravi Montevarchi Cuspisa 67 84 Consorzio Leonardo Sibet Pallacanestro 2000 Prato 84 76 Eros Montegatini Terme Vittus Siena 113 71 Gli Eros esultano sono da soli in testa alla classifica con la sconfitta dei cugini Basket Club Lucca Spezia Basket 64 72 Allora Eros Montegatini Terme 50 Gemma si ferma segue a due punti 48 Spezia Basket 36 ABC 34 insieme alla Sibet Basket Prato 2000 34 A32 Basket Arezzo A30 Cantini Lorano Olimpia A24 il Valdarno A22 Valdisieve A20 un trenino di tre Lucca Consorzio Leonardo e Vittus Siena A18 Agliana con il Cuspisa 12 La Fides Montevarchi 10 Toscana Food Don Bosco Livorno Andiamo Andiamo nel campionato seguente Entriamo nella Serie C Silver Prima fase il girone A dove si è giocato il turno numero 12 di campionato Allora Valdera Brusa Livorno Basket Posticipata si gioca il 3 di aprile per cui domenica alle ore 18 e 30 Menzana Academy Montale Anch'essa si gioca domenica posticipato si gioca domenica anche Fucecchio Vela Basket si gioca domenica Carrara Campi Bisenzio Idem Alto Passo Laurenziana Idem Biancorosso Empoli Costone Siena si gioca invece domani il 2 Pontedera Invictus Basket Livorno stessa cosa dicasi per Liburnia Basket Livorno Centro Minibasket Carrara allora ovviamente ne deduco che devo tornare indietro di una puntata l'ultimo turno del 27 di marzo allora Empoli Alto Passo 71 63 Montale Fucecchio 57 74 Invictus Basket Livorno Larenziana Basket Firenze 59 70 Brusa Livorno Liburnia Derby Livorno di fuoco 99 92 Centro Minibasket Carrara Audax Carrara anche qui Derby in casa Carrara 77 88 Vince l'Audax Costone Siena Menzana Academy è stata la giornata degli scontri intestini i derby Costone Siena batte l'Academy 79 a 66 Campi Bisenzio Juve Pontedera 75 68 Velabasket battuta in casa dal Valdera 68 a 88 allora qui conduce una delle due senesi Costone in testa 48 Menzana Academy 46 Campi Bisenzio 36 in compagnia della Laurenziana Basket Firenze Fucecchio Alto Pascio Bianco Rosso Empoli Tris a 34 a 32 Valdera a 26 Scalino Liburnia Basket 24 Montale 22 Mini Basket Carrara 20 Laudax Carrara 16 Brusa Livorno Basket 8 L'Invictus Basket Livorno a 8 Pontedera chiude il Velabasket a punti 6 e noi proseguiamo il nostro decalage allora andiamo al girone B che ha giocato invece il turno numero 11 siamo alla fine della regular season allora Sestese Certaldo 52 42 Chiesino Zanese Bottegone Pistoia 76 68 Levante Jokers Montemurlo 71 68 Centro Mini Basket Val Bisenzio Santo Stefano 56 69 Calenzano Loconte Prato 63 85 Loconte che conduce 34 e si aggiudica la regular season Cus Firenze 26 Bottegone 2001 Pistoia 24 con Chiesino Zanese 22 Santo Stefano 20 per Montemurlo 18 Calenzano 16 Sestese 14 Levante Jokers 8 Certaldo 2 Centro Mini Basket Val Bisenzio andiamo al girone C dove anche qui è terminata la regular season gli ultimi risultati Calcinaia Castelfrango Frogs Le Rane 52 56 Esco Piombino Libertas Basket Lucca 56 61 Val di Cornia Oltremare Fides Livorno 54 72 Basket San Vincenzo Gea Basket Grosseto 74 65 Bellaria Cappuccini Ponte Rera Monsummano 44 70 La classifica finale vince la regular Oltremare Fides Livorno 32 Monsummano 28 Val di Cornia e Basket Gea Grosseto 26 Libertas Lucca e Calcinaia con San Vincenzo un trissi a 20 punti 16 Bellaria Cappuccini Ponte Dela 14 Castelfrango Frogs 8 Audace Pescia 0 punti purtroppo la esco Piombino andiamo a vedere il campionato di promozione l'ultimo con cui chiudiamo qui andiamo direttamente nel girone di che ha mandato a referto la giornata numero 9 manca la decima e l'undicesima Pisa Luca Skywalker 67 63 la dispensa di campagna Donoratico Massa 78 50 Dinamo Basket Rosignano Pallacanestro Stagno 59 71 Manufacturing Rosignano Carrara Legends 80 62 purtroppo arriva una sconfitta dell'Elba che era impegnata in terra di Pisa a Volterra Volterra batte pallacanestro Elba 63 56 Stone Export Livorno Basket Polisportiva Nicola Chimenti 58 61 con la dispensa di campagna Donoratico Capolista 32 Manufattori Rosignano 26 Carrara Legends 22 Luca Skywalkers e Volterra 20 Stone Export Livorno Basket e Pallacanestro Elba 18 zona centrale della classifica con anche Sport Pisa a 14 Pallacanestro Stagno e Polisportiva Nicola Chimenti a 2 Massa a 0 Rosignano con se dovrei andare bene con Pallacanestro Elba Stagno Polisportiva Chimenti che hanno 17 giocate 16 ne ha Rosignano 15 addirittura Volterra 15 basket Rosignano 16 Massa tante le gare da recuperare vedremo se saranno tutti da recuperare se recupereranno ovviamente quelle che hanno importanza per la lotta dei playoff e per la lotta per la retrocessione che credo sia ormai una parola chiusa Massa 2 Dinamo Basch Rosignano 0 sono le squadre che virtualmente sono già retrocesse per cui vedremo quello che sarà l'addivenire e il proseguimento di tutti i nostri campionati toscani l'appuntamento va a venerdì prossimo io vi ringrazio lascio spazio ovviamente adesso a Basch NBA 196 professor provinziano dottor Paolo Caselli vi specializzati in materia del basket più bello del mondo il basket professionistico se la passano male davvero i Lakers che attualmente non sarebbero nemmeno nei minimali play-in ma ancora c'è tempo per rimediare in casa giallo-viola ma per adesso per i Lakers è davvero un'annata da dimenticare ne sapremo di più rimanete con noi un attimo di pubblicità poi via alla parte di basket assolutamente più bella basket NBA 196 grazie Enrico Milano che mi segue in regia grazie a Paolo Romanelli l'appuntamento ricordo domani pomeriggio sabato 2 di aprile palazzetto di San Marcellino zona Firenze Sud gara 2 play-out di Basch serie B nazionale girone unico la Florence che ha battuto Lucca 60 a 54 in gara 1 sabato scorso a il matchball per svangarla salvarsi subito e lasciare a Lucca e Pontedera riscozzarsela per il secondo posto che vorrebbe dire retrocessione in serie C non voglio pensare ad altro la Florence è davanti la parola fine siamo arrivati con questo bel risultato con l'avvento di Coccio Romanelli dopo Ronny Brienza Coccio Romanelli sta costruendo il miracolo salvezza voglio vedere una squadra pimpante che la dirima in 1-2 si vince ci si salva ci si abbrazza si festeggia e si va a mangiare la pizza tutti insieme grazie l'appuntamento è a domani la diretta ore 18.35 palla 2 a San Marcellino ore 18.45 torna alla diretta del canale 196 di Tele Firenze Viola Super Sport da Stefano Ballerini grazie lì nella regia grazie a tutti Grazie a tutti.